salve sono aldo della sd special operation department benvenuti sul nostro nuovo format interamente dedicato ai nostri prodotti oggi sono qui perché voglio presentarvi il nostro spectre adp plate carrier uno dei nostri prodotti di punta la versione più combat rispetto a quelle che abbiamo attualmente sul nostro e commerce più combat per la sua capacità di carico massimo e per la sua completa modularità la struttura è sviluppata in cordura mille denari con un rivestimento interno in air net che permette una completa traspirazione con un implemento di 11 tasche interne è possibile settarlo senza l'utilizzo del sistema molle partendo dalla zona di scarico parliamo degli spallacci nella quale è situata una regolazione semplificata a cinghia passante facilmente raggiungibile anche con il plate indossato la distribuzione del peso è ben equilibrata grazie a una larghezza di 7 centimetri per spallaccio che consente di non gravare sulla zona del trapezio scendendo verso il fronte del plate sono situate due tasche con apertura scratch una si trova nella zona addominale l'altra è un mini admin situato nella parte toracica l'interfaccia in molle system consente un setting a 360 gradi per qualsiasi tipo di ruolo i camera bound in dotazione con l'acquisto del plate sono dotati di tasche multi tool è una tasca intermedia nella quale è situato un inserto per il soft armor 3a è possibile anche inserire le side sapi ovvero le 6 inch per 6 inch all'interno dei camera bound sono presenti due regolazioni con cinghia passante semplificate che permettono una facile aderenza del plate posteriormente il plate si presenta con piattaforma in molle system e una tasca con apertura scratch posizionata nella parte lombare con questo vi saluto mi raccomando iscrivetevi al nostro canale youtube sod gear iscrivetevi anche a tutti i nostri canali social per rimanere sempre aggiornati ci vediamo la prossima iscrivetevi al nostro canale